portiamo a vedere un appartamento unico nel suo genere perché si trova in una banca completamente ristrutturata l'appartamento è molto particolare adesso capire perché andiamo a vederlo la casa è stata completamente rinnovata sia all'interno che la parte esterna hanno rifatto anche tutta questa parte di cappotto e riportato le pietre originali della zona ciao Grazie a tutti